Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati nella serie delle 7 e oramai ci stiamo appassionati a questi gamberetti nella rincorsa di qualcosa di importante che forse un giorno arriverà, non lo sappiamo Allora ragazzoli, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram Come Maullo941, il link è in descrizione e se volete donare per sostenere il canale, per sostenere questo mio tenervi in compagnia trovate anche il canale, il link sotto in descrizione, adesso possiamo partire col video Allora ragazzoli, perfetto, noi abbiamo una partita contro il Bolton, io non ricordo assolutamente una cippa di nulla C'era qualcuno che si era lamentato? Buuu, va bene, allora noi abbiamo qualcuno indisponibile Craston e Old che sono perfettamente venduti, Tonev che è rotto, quindi giocherà Nicholson Tonev lo dobbiamo mettere fuori perché se non sbaglio si è rotto per un paio di mesi Quindi ci portiamo, ci portiamo slow, ci portiamo slow, sì, ci portiamo slow E no, pervisco sinceramente portare Taylor, il secondo portiere, sinceramente, che non si può mai sapere nella vita Loro sono distrutti, ma sono già venduti, Mariani, va bene, ok Manteniamo questi 11 titolari, raga Vediamo come va questa partita contro il Bolton Noi siamo al... che giorno è? Mi sono un attimo perso 12 dicembre Quindi ci stiamo anche avvicinando a una situazione di mercato Allora, Mariani e Bolton Il Bolton viene da un pareggio contro il Coverty City Noi che ci fanno? Ci perdiamo 2-0 Porca miseria che partiamo male in questo video Tra l'altro è spulso Satton Il nostro difensore centrale Porca miseria Mannaggia di una cippa Vai, va bene, va bene, dai, dai Non bisogna demoralizzarsi Non bisogna demoralizzarsi Sapevamo che sarebbe stata una stagione in salita E non dobbiamo demoralizzarci, ragazzone Non dobbiamo demoralizzarci Allora Abbiamo 2 milioni in ufficio Iniziamo con le cose serie Noi siamo seguendo i piani Blah, blah, blah Giocatore squalificato Satton è squalificato per una partita Va bene Andiamo a fare gli allenamenti Andiamo a fare gli allenamenti Andiamo a fare crescere Continuiamo a fare crescere i nostri giovani Naga 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 sala 59 Che grande Naga Io ho bisogno di attaccanti giusti Dai e Naga Dai e Naga Il nostro Naga Che l'altra parte del nome è impronunciabile Quindi per noi sarà Naga Siamo 15esima a 25 punti Con una partita in più Porca miseria Che cosa brutta, raga Mo perdiamo una posizione Sicuro Perché le Strasburry sicuramente vince E noi mo perdiamo una posizione Va bene, va bene Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Stiamo arrivando alla prossima partita Premio torneo Da che sta di Ci hanno dato un primo torneo E non so minimamente perché è arrivato Però va bene Stiamo andando a giocare contro No, 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 no Lo Strasburry ha perso Mi sa Perché a qualità di partita Abbiamo mantenuto i 3 punti di vantaggio Buono così Andiamo a vedere un attimino quale mail Partita spostata E ci hanno dato dei soldi Ottimo Per aver raggiunto La fase successiva Della Della FA Cup Buono Buono Quindi abbiamo fatto anche un obiettivo Giusto? Mi dai conferma Abbiamo fatto anche Eh Gli abbiamo raggiunti 16-se di finale Zio Boh Forse perché ancora non hanno fatto i sorteggi Non io ne ho più po' le idee Chi è indisponibile? Esatto Non a posto No, non abbiamo difensori centrali Raga Porca miseria Ci tocca giocare con Old Praticamente Perfetto Perfetto E qua mo' che ci mettiamo Ci mettiamo Braxton Braxton Perfetto Abbiamo una formazione Proprio rimaneggiata al massimo Facciamo un po' di cambi Allora Wilding Lewis Fuori Wilding Dentro Torna Raid Morris Stacco Fuori Stacco Dentro Leigh Smith Se no magari Se no mi si arrabbia E E poi non fanno più nulla Raga Perché casa te Ancora non è pronto per entrare Niente Craston l'abbiamo venduto Quindi Si andrà a lamentare Da qualche altra parte Il nostro Craston Troverà Già Ha già trovato un'altra squadra Perché ricordo che l'abbiamo venduta Ne ha già trovato il Bradford Fuori casa Bradford viene da una vittoria Contro Contro il Stalford E noi che ci fanno Ci perdiamo 2-0 Mamma mia Che siamo messi male Raga Aiaiaia Inizio di campionato L'avevamo avuto così brutto Sono usciti Lewis e Raid Per casa dei Wilding Abbiamo perso 2-0 Porca miseria Ma abbiamo una difesa Che fa ridere Raga Abbiamo una difesa Che fa ridere Craston venduto Tutto buono e beneritto Satton Si è tornato Ascondato alla squalifica Lewis Ci stai un attimendo Ci stai un attimendo Rompendo le scatole Lewis Ci stai abbastanza Rompendo le scatole Vedo l'ora di trovare Nuovi giovani Da poter mandare Nel calcio che conta E mandarti a terra A zappare la terra Da un'altra parte Dai e raga Dai e raga Cresciamo Cresciamo Che la seconda parte Del campionato La voglio fare Allora Aspetta un attimo Nei commenti Di una botta di tempo fa Mi era stato detto Di cercare Un certo piccolo Può essere Esposito e piccolo Dell'Atalanta Vediamo se c'è Questo piccolo Piccolo Ora non mi ricordo Se era Antonio piccolo No No 32 anni Di cosa stiamo parlando Attaccante Attaccante Roberto piccoli Può essere Lui Dell'Atalanta Eccolo qui Seguiamo questo piccoli Contatti di scadenza Fra 7 mesi Ok Nista preferito Del labio mercato Perfetto Vediamo cosa ci dicono Su questo Roberto piccoli Perché Esposito So già che costa Un milione e passa Quindi non è minimamente Arrivabile Piccoli Potremmo un attimino Valutarlo Valutarlo Secondo me Se gli sta bene Scendere di Tante categorie E andarsene a giocare In Inghilterra Praticamente Potrebbe essere valutabile Contro chi giochiamo Siamo ancora Quindicesimi Noi raga A parità di giornate Con lo Strasberry E con il Bardon Allora La formazione La formazione La formazione Eh ma la formazione Per forza questa Deve essere raga Diamo un turno Facciamo giocare Casa Dei Dai Ma Luis è in campo Che ci rompa Le scatole Che vuole giocare Luis è in campo L'unico dei titolari Che gioca sempre E si lamenta Raja se non sbaglio Il terzino sinistro Fa schifo Va bene Il terzino destro Giochiamo così Noi a gennaio Dovremmo vedere un attimino Sul mercato Cosa riusciamo a trovare Raga Perché Non ricordo Con i giovani Come siamo messi Contro il Rockdale Attenzione Loro vengono Dalla una sconfitta Contro il Wigan Noi che ci fanno Ci vinciamo 1 a 0 Goldie Lecce Schmidt Dai è così Una gioia Mai una gioia Una gioia Ecco Questo video Si chiamerà Una gioia Ecco Perché Una vittoria Vinta per 1 a 0 Una partita Vinta per 1 a 0 Se non è una gioia Questa Signori miei Non so cosa Possa esserlo Quanto meno 3 punti Li portiamo a casa Casa dei E' contento Di che cosa Casa dei Rendimi Partecipe Della tua gioia Grazie per avermi dato fiducia Ma che non sia La gioia La più importante Squadra Lo diventerai Casa dei Non ti buttare Così tanta terra Casa dei Lo diventerai Lo diventerai Abbiamo bisogno di te Casa dei Che ci fai una ballata Così Bolognese Casa dei Che ci fai una bagnata Una ballata Shuna balera Allora Stiamo ancora Quindicesimi A 28 punti Abbiamo perso Il treno Raga Il treno L'abbiamo perso Dai giochiamoci L'ultima partita Nella giornata di oggi La squadra E' completamente distrutta Fuori Lechmit L'uomo che ci ha dato La vittoria Dentro Stockholm A centrocampo Possiamo far giocare Wilding Casa dei Fuori Per Rosallivan Nicholson Deve giocare I miei esterni Devono giocare E questa è la formazione Titolare Raga Non ci posso fare nulla Siamo un attimo Con le pezze Nel fondo schiena Ma dobbiamo giocare Con loro Non ci posso fare Assolutamente niente Giochiamoci L'ultima partita Contro il Lincoln Fuori casa 27 cime Vengono da sconfitta Contro l'Oxford Noi che cefamo? Ce vinciamo 3 a 1 Porca miseria Che bella batosta Doppietta di Nicholson In gola di Raid Che è sobbentrato Insieme a casa dei Per Wilding E Lewis Bella così Raga 3 a 1 Pulito 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 Bello così Bello così Dobbiamo cambiare il titolo A questo video Perché dico Due vittorie abbiamo fatte Dai così Facciamo gli allenamenti Abbiamo l'ultima partita Prima del mese di gennaio Signori miei Sala nessuno Oh raga Vi dovete allenare bene Però dai Naga Anaga Mi è mai veritando una cagata Come giocatore Devi salire Devi essere più incisivo Ragazzo mio Devi essere decisamente più incisivo Allora Perché tutte queste partite Uno vicino Dopo l'altra Porca miseria Giochiamoci l'ultima Raga Giochiamoci l'ultima Allora Intanto Le Schmidt Vuole giocare Porca miseria Basta che mancano Stato del stando Un po' Basta che gli salta Una partita Diventano tutte prime donne Tutte che vogliono giocare subito Oh io non ho giocato Io non ho giocato Vabbè Ritorniamo alla coppia d'attacco principale Stocco Le Schmidt Sullivan Lewis A posto di Lewis Torna Diamo fiducia a Mariani Dai A posto di Wilding Può giocare Red No Nicholson deve giocare per forza E qua in difesa Rimane quello che è No questa la perdiamo Raga Questa la perdiamo sicuro Me la sto chiamando da solo Possibile Probabile Raga Contro il Bristol Rovers Contro il Bristol Rovers Vengono dalla sconfitta Contro il Wigam E noi che ci fanno Chiudiamo in bellezza Raga Porca miseria Perdiamo 2 a 1 Abbiamo trovato il gol del 2 a 1 All'ottantesimo Con Satton Ammonito Mitchell E niente 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 Alti e bassi Ecco Nuovo titolo del video Alti e bassi Perché abbiamo fatto due sconfitte Due vittorie E chiudiamo il video Con una sconfitta pesante Arriviamo alla partita di Coppa Raga Eh si zio Hai fatto Le Schmidt Hai fatto proprio Una prestazione Veramente molto brutta Informazioni importanti Sta partendo il mercato Siamo a gennaio Io direi di fermarmi qui Se riesco a caricare Senza che si buggano Tutte cose Perché Prossimo video Ci giocheremo La partita di Coppa Contro lo Stock City Che lì prenderemo Le peggio pere In faccia E niente Fermiamoci qui Fermiamoci con gli osservatori Che sono tornati Con tante cose da vedere Ma le vedremo nel prossimo video Detto questo ragazzo Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per tutto Quello che vi ho andato Di fare Di scrivere Di commentarmi O di farmi sapere Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao